Il 34% dei rifiuti toscani finisce ancora in discarica, ma nei prossimi anni con il nuovo piano le cose dovrebbero cambiare. Si è chiuso il bando rivolto ai privati per i progetti di trattamento rifiuti con 39 proposte. 32 di queste rispondono ai requisiti, sugli altri servono ancora delle valutazioni. Tra i principali impianti ci sono 4 biogassificatori a Empoli, Pontedera, Massa e Rosignano, un impianto chimico a Livorno e un centro a Peccioli. Arrivato il ritardo, c'è poi un impianto a Scarlino, ma potrebbe rientrare tra quelli da valutare. Obiettivo del piano di gestione dei rifiuti della Toscana? Il riciclo di 3 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno e il raggiungimento dell'autosufficienza nello smaltimento nei prossimi anni, con l'80-85% di raccolta differenziata entro il 2035, oggi è il 65%. La regione punta ad arrivare dall'attuale 34 al 10% dei rifiuti che finiranno in discarica. Non c'è tra le ipotesi presentate nessun inceneritore, come previsto dal progetto di transizione green e di economia circolare. I risultati sono estremamente significativi, esulta l'assessore all'ambiente, Monia Monni. Il quadro di proposte, spiega, assicurerà un sistema integrato sempre più efficiente, con un impatto positivo sulle tariffe. Le proposte arrivate riguardano tutti gli ambiti, dal recupero di carta, vetro, multimateriale, al compostaggio, al recupero del tessile. Queste proposte, ha spiegato l'assessore oggi pomeriggio in una comunicazione in Consiglio regionale, non sono un pacchetto chiuso, ma l'avvio di un percorso di approfondimento e partecipazione delle tecnologie proposte in cui il Consiglio sarà protagonista. Adesso si aprirà un primo confronto con gli antilocali, le parti sociali, le categorie economiche, gli ordini professionali, le associazioni ambientaliste e la cittadinanza, visto che, come ha ammesso l'assessore, ci sono territori maggiormente interessati di altri alle proposte impiantistiche. A quel punto, scegliere su quale territorio installare un impianto sarà una decisione prettamente politica.